Musica Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video sul canale Sono LeBez06 e oggi andremo a fare una challenge solo pompa Cioè solo il fucile pesante Prima che iniziamo la partita iscrivetevi al canale, lasciate un like e commentate Se volete altri tipi di challenge così Soprattutto attivate la campanellina per non perdere nessun video che riguarda Fortnite Il lunedì e il venerdì Ragazzi mettiamo punto e andiamo in partita In partita Allora io vorrei atterrare Dove possiamo andare? Andiamo a mole moleste ragazzi Buggate sono del busto che non si sentiva più vabbè Sempre i soldi di bug di Fortnite E noi ci vediamo a mole moleste ragazzi Ragazzi stiamo atterrando Allora Dobbiamo trovare solo dei pompa Se no Se non troviamo pompa Siamo morti Ok Sì sì è un tattico Un tattico Ok GG ragazzi Non subito un tattico Non c'è non c'è un altro pompa Di solito Ok 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 Pompa Un altro pompa ce l'abbiamo C'è un altro tattico Lo prendiamo subito ovviamente Ok Diciamo che siamo tipo un po' spammoni Con questo tattico Cioè il tattico spam Quindi ragazzi Questi diciamoci con dei spavoli Dai E si fatti meccaniche Anche qui ce ne dovrebbe dare una E infatti ce l'ha data una E di prendere Tipo questo imbruzzo gigantesco Che si trova sulla torre del cuo abbiamo Dalla principessa Zutina Si chiama Zutina ragazzi Quindi devi salire Non puoi salire Ciao Voi vedete qualcuno qui? Ma Ma che mi ha compilato Oddio c'è uno qui Ma dov'è? Easy kill Easy kill E si balla Che è beccato sto palleggio Anche se non è palleggio Mamma mia Anche se non è palleggio Ti ho clapato come zio che GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG Ma bro Dov'è? Oddio Eh dai bro, bro, divieni qua Ah, ah Ok Easy clip Eh, da questo robot, ragazzi vedevo da questo robot Oh gente, giù Dove sarai tu? Eccoti qui, eccoti là Io ti butto sotto e ti faccio fare una brutta fine Oh qua sta pesto, pesto dai Noob on scuff Ok ragazzi, siamo in partita Eh, questa volta, oddio Perché così, insomma, va bene Questa volta, raga, andiamo A Pantano Palpitante Dai, Pantano Palpitante Ragazzi, ci vediamo lì A Pantano Palpitante Ragazzi Ho aperto tipo un Canale Instagram Cioè, profilo Instagram Dove, appunto, metto le foto delle copertine Prima che escono i video E anche altre foto che faccio Proprio su Fortnite Quindi se vi va Vi metto il link in descrizione, ragazzi No, bro Ehi, bro Ho una pioggia e non posso usarla E godo Ma do meno male con bot, ragazzi No, lì Fuori, fuori, fuori Morti, morti, morti Da signor Batman, ragazzi BATMAN, 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 BATMAN Dove, dove, dove Dove sei, BATMAN Eccoti qui Io caro BATMAN Uhhh, no Non ci credo Non ci credo Non ci credo, ragazzi Che, no E adesso Ci vuole questo ballo Sì, sì, sì Eccola qui Spazzo, spazzo Eh, non ci credo Non ci credo POMPA GG per il POMPA GG per il POMPA Lucciole Raga, vorrei provare quel trucco che ho visto È un trucco praticamente che ho visto su TikTok Adesso lo proviamo, ragazzi Ma Distruggi strutture con il fuoco GG, la missione Ok, dopo la faccia, ragazzi Ma Raga Madonna santa, madonna Non ci credo Allora, ragazzi No, adesso sentitemi Scar leggendario Lancia razzi epico E dopo Arco fiammeggiante Leggendario Raga Non so, mannaccia Però, eh, raga In la chest Esce Un'arma leggendaria Disiscrivetevi tutti al canale Ok Andiamo a prendere questa macchina E cerchiamo di fare questo bug Che ci porterà lontano 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 Dai, perché non è riuscito Oh Oddio Dove è fin... Ragazzi Andiamo alla macchina Ragazzi Andiamo alla macchina Andiamo alla macchina No, adesso lo voglio fare Basta No, adesso se non mi riesce Cioè No, adesso Invece il video Ragazzi Lo dobbiamo fare Ragazzi Lo dobbiamo fare Lo dobbiamo Lo dobbiamo Ma dai Oddio È rotta Ragazzi È rotta È rotta È rotta È rotta Allora, questa non è solo bomba challenge Questa è o sulla auto challenge Oppure sulla army legend challenge Non c'è parole 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 Non me ne fega Impulzo Impulzo ragazzi Impulci Impulzo Impulzo Di no Di no Di no Di no Di no Stai canno Di no Via Non ti sto facendo niente Vattene via Quattro dinosauri Che mi insegono Così Non era questo però Ragazzi Ci riporiamo Ci riporiamo Sì Sì No Sto stai usando No Ma Una trama legend Dov'è zio Dov'è zio Stai canno Dov'è zio Zio Come fai Sì 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 Vabbè Era fortino Era fortino Ok ragazzi Se il video vi è piaciuto Commentate Scrivetevi al canale Lasciate like E soprattutto Attivate la camera Per non perdere Nessun video Ma soprattutto Ricordate Di fare questo bug Che secondo me Avete visto tutti Su tiktok Perché sono tanti Tiktok Che lo fanno Però ragazzi Provateci Perché può essere Realmente fatale Tipo state a campo E' arrivati Fino al lago Languido Praticamente Quindi ragazzi E' un bug Molto Apprezzabile Ragazzi Ci vediamo In un prossimo video Bella